Salve a tutti ragazzi, benvenuti a quest'altra ricetta italiana. Oggi è una ricetta facilissima, strafacile. Funghi alla graticola provenienti dal fiore di Venezia Giulia. Cosa vi servono? Funghi, 300 grammi circa, ma anche di meno, dipende quanti siete. Due spicchi d'aglio, olio extravergine d'oliva, pepe nero e sale. Per prima cosa bisogna lavare, prima di invecchi, bisogna lavare tutti i funghi per bene e lasciarli scolare per qualche minuto. Poi, versare un po' d'olio, vedi i funghi, e lasciarli... Vabbè, è passata mezz'ora. Intanto mettiamo a scaldare una bistecchiera, perché la graticola non ce l'ho, non è tempo di griglie, quindi metto una bistecchiera a posto della graticola. I funghi sono rimasti mezz'ora a mollo. Adesso li togliamo. Una volta che li abbiamo tolti, li mettiamo su questa bistecchiera per in calda. Allora, quando è calda bisogna mettere i funghi qui per qualche minuto e girarli. Perfetto, sono pronti. Adesso li mettiamo nel piatto. E come ultimo passo bisogna buttarci un po' di sale e un po' di pepe. Questi vanno serviti ben caldi, quindi subito da mangiare per gustare di più tutto il sapore. Questo piatto è finito, questa ricetta è finita, questo video è finito. Ci vediamo alla prossima. E ancora non so che spazio. Suggeritemelo voi. Ciao.